Qui al convegno di Assisi, dalla comunità, abbiamo ascoltato questa sera la direttrice del Tg3, Giuseppina Paterniti. Quale responsabilità hanno i mezzi di comunicazione nel creare sensibilità verso l'Europa in Italia? Una grandissima responsabilità, innanzitutto la conoscenza, poi ancora la vicinanza a tanti tanti europei che abitano anche nel nostro paese e poi anche un senso di responsabilità perché il destino europeo non è il destino di altri, è il nostro destino. So che come Tg3 vi organizzate per una redazione particolare il 26 maggio, vi distribuite un po' in vari punti d'Europa. Sì, facciamo tutto un Tg da Bruxelles e poi avremo in collegamento tutti i nostri corrispondenti per un segnale per dire che l'Europa è importante e che questa volta è proprio necessario andare a votare. Cioè l'astenzione non paga e non aiuta a camminare insieme.